Subito spente dalle squadre antincendio le fiamme divampate ieri alla raffineria Eni di Gela, era anche scattato il piano di emergenza generale. Per fortuna nessun ferito. Il rogo sarebbe stato innescato dall'esposione di un forno dell'isola Otto, il forno di impianti di distillazione. Il buato si è sentito in tutta l'aero industriale. Come scrive Lanza, l'esplosione e il successivo incendio hanno provocato un fuggifuggi generale da parte degli operai anche dell'indotto che in quel momento erano al lavoro. Sono già in corso accertamenti tecnici per individuare le cause dell'esplosione.